Ciao Riccardo, io sono il salutatore, ti chiedo un saluto a tutti i due fan che ti seguono. Allora, dal salutatore al salutatore un saluto a tutti i fan. Due salutatori? Due salutatori. Grande, ecco, mi mancava un altro, adesso siamo un due, così diamo più saluti. Esatto, Villa Borghese, un saluto a Villa Borghese. Ecco, dalla Casa del Cinema, Largo Macello Mastroianni, grande. Perciò più di così che vogliamo dire, 14 marzo, ricordiamo il film. La notte è piccola per noi, in sala, andate a vederlo, mi raccomando, è una commedia bella, quindi... Non potete mancare. Ciao. Ti ringrazio, saluto a tutti i tuoi fan. Ciao. Ciao.